Salve a tutti, buongiorno, come state? Tutto bene? Ok, vi parlerò, come già diceva, di una tecnica che adesso è molto diffusa in ambiente psicoterapeutico che va dal nome di IMDR, che sta per High Movement Desynthetization and Reprocessing. Una tecnica che viene usata per il trattamento di traumi, soprattutto il trattamento di traumi post-traumatici da stress, ma adesso, come ho introdotto bene, viene applicato un po' dappertutto. Quello che cercherò di fare è un'analisi critica, perché questa tecnica è presentata come evidence-based theory, e quindi evidence-based, cioè che segue il metodo sperimentale, il metodo scientifico. Allora, se è evidence-based, dobbiamo andare a vedere le evidenze che portano al supporto di questa teoria. Quindi, diciamo, questo seminario vuole avere questo aspetto. Mi introduco brevemente, io ho una passione sui movimenti oculari, praticamente da quando ho fatto la mia magistrale, poi l'ho continuata negli anni, e continuo a studiare i movimenti oculari. Per darvi una citazione filosofica, il perché studio i movimenti oculari e il perché sono affascinato, questa è una citazione di Schopenhauer, del mondo come volontà di rappresentazione, in cui lui diceva che sostanzialmente un occhio, l'occhio era, attraverso l'occhio noi creiamo una rappresentazione della realtà, la rappresentazione della realtà è quello che noi fondamentalmente in cui crediamo. Quindi l'occhio e la visione o la percezione, più genicamente, è estremamente importante rispetto a quello che crediamo. Ho sempre usato la visione, in realtà, proprio come puntatore esterno, per cercare di capire come effettivamente possiamo spiegare altri processi cognitivi, come la memoria, il linguaggio, l'invecchiamento e così via. Quindi l'IMDR come tecnica che uso i movimenti oculari, di cui sono fondamentalmente innamorato, è una cosa che mi ha interessato. Devo ringraziare, ovviamente, Gloria, che è una mia tesista, che mi ha aiutato in questo lavoro, insieme a me ha avuto tante discussioni, mi ha aiutato nella selezione degli articoli, perché va da sé che noi, senza l'aiuto delle nostre valide studentesse e studenti, non faremmo quello che riusciamo a fare. Quindi grazie, Gloria. E ai movimenti desentitizzazione e reprocessing, cosa vuol dire? Perché sostanzialmente si basa sul concetto che, attraverso il movimento oculare, quindi una stimolazione sostanzialmente bilaterale, lo spostamento dell'occhio dal campo visivo sinistra al campo visivo destro, in maniera ripetuta, porta a una destabilizzazione di alcune memorie traumatiche, quindi memorie rappresentabili come delle immagini, sostanzialmente, e a un riprocessamento, cioè una rianalisi dell'evento traumatico, con risoluzione, la risoluzione è la diminuzione di questa carica, sia emotiva che anche mnestica, cioè del suo recupero mnestico. La procedura. Abbiamo fatto un sacco di fatica con Gloria a capire esattamente la procedura, perché non è standardizzata, e lo vedremo, vi darò altre informazioni su questo. Quella che vi porto è la procedura base, cioè quella che è stata inventata o creata da Shapiro, che è la psicologa americana che ha creato questo metodo, che è fatta in otto parti. La prima parte è un'anamnesi, quindi si parla col paziente o cliente, come direbbero in Gran Bretagna, col paziente, gli si chiede ma lei cosa ama, perché è venuto qua, qual è la sorgente del suo trama, quindi si cerca di capire quale di queste memorie fondamentalmente sono quelle intrusive che poi causano il disturbo post-traumatico da stress. Da lì il terapeuta spiega la procedura, dice che in questa procedura verranno utilizzati i movimenti oculari, lei dovrà cercare di ricordare questo evento e nel frattempo fare questo compito. Dopodiché c'è una valutazione, e cioè viene chiesto al partecipante o al soggetto di pensare a questo evento traumatico, quindi di avere una visione, un'immagine ben chiara dell'evento e di che cosa è successo, quindi un'immagine visiva sostanzialmente. Dopodiché inizia la fase di desensibilizzazione, cioè si porta il soggetto a fare questa pratica, e come vedremo non è standardizzata, quella di base era l'indice, come diceva Sergio all'inizio, lo spostamento dell'indice per tot secondi, anche lì non si sa per quanti secondi o quanto tempo, quante volte. In questa fase il soggetto deve continuare a pensare a questa immagine traumatica, dopodiché viene l'installazione, l'installazione sarebbe che viene chiesto al soggetto su due scale quanto questa immagine è vivida, la scale va da 1 a 7, con 7 è molto vivida, 1 è poco vivida, e di quanto sostanzialmente si sente emozionalmente a contatto con questo evento. La scala in questo caso va da 7 a 1, 7 è molto a contatto e 1 è poco a contatto. Quindi si ripete in una sessione terapeutica mille volte questa pratica di sensibilizzazione e installazione, e scansione corporea, cioè che è un po' un misto in realtà con questa installazione, perché sono queste due domande che vengono poste al partecipante. In teoria la sessione finisce quando il soggetto dice 7 a una scala e 1 all'altra scala, dopodiché avviene la chiusura, la chiusura è ok, questa è la sessione, è andata così, come si sente? Ultima fase, quali sono i nostri obiettivi per il futuro, quante altre sessioni, cosa faremo in queste altre sessioni. Facciamo una prova, una prova vera, ovviamente io non sono uno psicoterapeuta in nessun modo di MDR in generale, quindi è solo per darvi un po' un senso della logica del processo, e quindi vi chiedo di immaginare un evento, non deve essere forse negativo, un evento, come diceva Sergio, delle finestre di un palazzo, e di fissare questo pallino per tot secondi che si muove cercando di tenere però a mente quest'immagine nella vostra destra. Quindi farò un po', poi ovviamente taglio. Mi raccomando, pensate continuamente a questo evento in maniera visiva. Avete capito la procedura, il succo è che mentre c'è questa fase di stimolazione bilaterale, voi continuate a pensare a questo evento, in teoria proprio perché state facendo questo compito, il dettaglio e l'informazione visiva di questo evento inizia a decadere in teoria. L'altra cosa è che la pratica è ripetuta, quindi al soggetto viene chiesto continuamente se sta meglio, e quindi anche automaticamente, io pensavo pure per levarsi dalla terapia, a un certo punto uno scende nella scala, perché se no non finisce più. Il problema non è questo, perché io vorrei dire che trattare comunque è meglio che non trattare, cioè è utile se qualcuno ha un problema riferirsi a uno psicoterapeuta, non è questo il discorso, il discorso è che la teoria, diciamo questa terapia, si basa sul concetto di evidence-based. Evidence-based, come diceva, il significato è il metodo scientifico, ed è stata accettata da diverse organizzazioni, anche importanti, il World Health Organization, l'American Psychology Association, e via discorrendo il Ministero della Salute. e quindi noi ci siamo chiesti, ok, quale sono le evidenze. Se andiamo a guardare alla letteratura, è anche difficile tracciare un, è veramente difficile tracciare un continuum, e vedere qualcosa che non è pubblicato soltanto nel Journal of EMDR Therapy and Practice. C'è qualcosa, ma ora vi mostrerò, diciamo, sono vari studi su diverse cose, anche molto disparate, come la quantità di materia grigia, o cose del tipo l'emoglobina, l'ossigenazione del cervello, studi sui rifugiati siriani, diverse metanalisi, che usano gli stessi articoli, che sono parte dello stesso corpo di giornali, e quindi, come diceva Sergio prima, quando introduceva il tema, portano automaticamente a una conferma del bias positivo. Noi abbiamo guardato a tutta questa letteratura, quello che ci siamo chiesti è vediamo a quale procedure sono, quali sono i metodi e quali sono i risultati. Vediamo di capire, nella logica scientifica, se c'è un protocollo, un protocollo ben definito, con dei risultati, su delle misure ben chiare. Per ricordarvi, il metodo scientifico viene dal caro Karl Popper, che disse che nella misura in cui una informazione scientifica parla della realtà, deve essere falsificabile, cioè che una teoria deve avere un modo per essere contrastata empiricamente, o comunque validata empiricamente, e che quindi resista alla falsificabilità, e quindi che sia replicabile, perché se questa cosa non esiste, vuol dire che non si parla di realtà, e quindi diventa una pseudoscienza. Abbiamo guardato a tre cose sostanzialmente, da un punto di vista del metodo scientifico, con Gloria, abbiamo guardato alle procedure standardizzate, quindi a che tipologie di metodi usano, alle misurazioni e se sono consistenti, e soprattutto se ci sono gruppi di controllo. Quindi io comparo una teoria o una terapia contro un'altra terapia, e non comparo la terapia contro una non terapia, perché, come dicevo all'inizio, nessuno critica il concetto di terapia, si critica la diversità della tipologia di terapia. Prima domanda che ci siamo posti è, ma i movimenti oculari sono veramente utili? Cioè il senso di questo indice, di questo pallino, è veramente importante? Abbiamo guardato quindi a una serie di studi, in alcuni casi menzionano il pallino, quindi quello che vi ho fatto vedere io, quindi su uno schermo, in alcuni casi menzionano l'indice del terapeuta, in alcuni casi il pallino si muove a certi intervalli, con certi secondi di differenza, in alcuni casi sono sequenze differenti di velocità, in alcuni casi non menzionano proprio come si muove questo pallino, se muovono le mani, non si capisce come sono stati stimolati i soggetti, in alcuni casi pochi usano il protocollo standardizzato di Shapiro degli anni 90. Quindi i movimenti oculari sì, ma non sono usati consistentemente, non c'è una procedura esatta di come effettivamente questi movimenti oculari vengono stimolati. In realtà, poi guardando alla letteratura più in generale, quello che ci siamo resi conto è che non è una stimolazione dei movimenti oculari, è una stimolazione bilaterale, quindi sì il movimento oculare bilaterale, quindi destra-sinistra-estra-sinistra, ma anche tattile, quindi si chiede al soggetto di battere a sinistra-destra con le mani o viene battuto lui sulle spalle da sinistra-destra durante la fase di recupero, oppure auditiva, orale, quindi viene presentato uno stimolo sinistra-destra che avviene a un certo volume sinistra-destra e quindi si fa sostanzialmente la stessa cosa, si stimola bilateralmente il soggetto. Quindi non si può parlare di movimenti oculari, quindi già di suo IMDR dovrebbero rielaborare il nome della procedura, perché non è una procedura basata sui venticolari, ma basata sulla stimolazione bilaterale. Guardando alle misure, quindi guardando in questo caso di che cose stiamo parlando, abbiamo guardato a una serie di variabili e di misurazioni assolutamente disparate. La prima cosa che uno va sempre a controllare è il campione, la numerosità del campione. Spesso in questi studi, ovviamente non tutti, ma la frequenza è quella, sono pochi i soggetti, qua vi ho tradotto un pezzo da un articolo scientifico, sono 15 soggetti in questo caso, misurano la concentrazione di moglobino ossigenata nella corteccia prefrontale, cosa estremamente specifica, che fa suonare un po' come io faccio l'elettroencefalogramma e cerco qualunque differenza esista all'interno del cervello. L'altra cosa è il problema del ritestare. Io testo la patologia o l'evento traumatico con una scala. Ora, se io ripeto esattamente lo stesso test con gli stessi item, uguale tale e quale, c'è un effetto di apprendimento, ma questo si sa da una vita, quindi automaticamente, se io faccio di nuovo il ritesting esattamente con gli stessi item, ci sarà sicuramente un miglioramento nella prestazione del soggetto perché è dovuto solo al test-ritest. Quindi nel qual caso uno dovrebbe testare lo stesso costrutto psicologico, come diceva Sara, con un altro test che si riferisce allo stesso costrutto. L'altro problema è che loro comparano sempre gruppi, se li comparano, ma mai gli individui, come abbiamo visto nel talk precedente, molto affascinante, c'è un sacco di variabilità individuale, quindi considerare l'individuo come unità di misurazione è importante al netto degli effetti di gruppo e ci sono ormai modellistiche avanzate in cui possiamo effettivamente calcolare la variabilità dell'individuo sul campione di riferimento. Last but not least, le tecnologie non sono comparabili, io non posso comparare la risonanza magnetica funzionale e andare a controllare delle aree casuali nel cervello per dimostrare che c'è più o meno attivazione in un'area e poi gli faccio le EG e gli EG glielo faccio con 10 canali e non 64 e glielo faccio tirando fuori delle porzioni della loro attività cerebrale e dimostro le differenze, perché comunque ci deve essere una procedura con una misura descrittiva sempre ripetibile che è manifestabile e quindi è quella che sta cambiando, non è una qualunque cosa che sta cambiando in un individuo. Altre domande molto importanti ma questa terapia è meglio di altri approcci quindi effettivamente ha un boost che è oltre quello che altre terapie possono dare? Anche lì i risultati non sono molto consistenti da un lato c'è chi dice sì effettivamente se noi compariamo l'IMDR con altre tecniche come la CBT da cui di fatto origina la Cognitive Behavioral Therapy o altre cose come il rilassamento l'efficacia significativa c'è un effetto però poi andiamo a vedere altri studi quindi quando misurano le differenze aggiustano i punteggi quindi fanno diciamo un'analisi statistica un attimino più ferrata iniziano a non uscire più queste differenze di gruppo. Allora la domanda e qua esce di nuovo il cappello viola che vi ha presentato Sergio prima la domanda è ma questa pratica medica o questa terapia fondamentalmente che aggiunge il movimento oculare aggiunge il movimento oculare quindi è quello che porta a un beneficio la stimolazione bilaterale o è la terapia di base che sta sotto e quindi la Cognitive Behavioral Therapy che in realtà ha un'efficacia quindi cosa aggiunge fondamentalmente il movimento oculare è soltanto un aspetto di marketing o è veramente qualcosa di significativo. Quello che ci siamo chiesti poi da bravi neuroscienziati è quali meccanismi cognitivi possono stare sotto il movimento oculare e quindi la rievocazione di memorie. Prendendo un paper in cui cercano di fare un po' di sintesi loro tirano fuori tre cose uno è il riflesso investigatorio che sarebbe il fatto che attraverso il movimento oculare i soggetti si rilassano e quindi rilassandosi hanno più flessibilità nell'approcciare l'evento traumatico l'altro che forse c'è un aumento di comunicazione emisferica quindi più connessioni bilaterali l'altro che è sicuramente molto più probabile è il sovraccarico di memoria di lavoro che Sergio vi presentava prima e ve lo spiego un po' più nel dettaglio il succo qual è questi soggetti cosa stanno facendo sono stimolati quindi devono seguire il pallino dall'altro lato devono tenere in mente un'immagine questa cosa è nota in psicologia sperimentale si chiama doppio compito il doppio compito è un classico del fatto che l'attenzione avendo una capacità limitata se la distribuiamo su più compiti scende l'attenzione scendendo l'attenzione scende la qualità della capacità di ricordare l'evento quindi è un effetto sostanzialmente di sovraccarico della memoria di lavoro e quindi la diminuzione è spiegabile come una ridotta capacità attenzionale e di conseguenza una ridotta capacità amnestica nel recupero dell'informazione e del dettaglio di quell'informazione ora tutto questo è molto interessante da un punto di vista scientifico diciamo il metodo scientifico è questo noi prendiamo le procedure le analizziamo guardiamo i dati guardiamo le misure dipendenti guardiamo le loro analisi guardiamo la loro realisticità però come diceva prima sempre nella presentazione di Sergio è difficile poi andare contro qualcosa che è difficile quasi da misurare allora noi dobbiamo guardare alla letteratura di riferimento e chiederci ma quanta oggettività c'è all'interno di questa letteratura vi cito il concetto di bias di pubblicazione e cioè il concetto per la quale in scienza si tende e si è sempre si è sempre dato peso ai risultati positivi cioè alla significatività di qualcosa come diceva Rosenthal lui diceva che in qualunque area di ricerca è impossibile sapere quanti studi siano stati condotti ma non siano stati mai riportati perché esiste questo file drawer il cassetto i documenti dove il 95% degli articoli finisce perché hanno sostanzialmente dei dati negativi e invece il 5% degli articoli viene pubblicato perché hanno dati positivi quindi c'è un sommerso fondamentalmente di informazione scientifica che sono tutti dati negativi che non vengono pubblicati perché non vengono accettati perché non vengono accettati perché non sono interessanti quindi già c'è questo bias di suo quando guardiamo alla letteratura degli MDR vediamo che il bias è molto forte abbiamo su quegli articoli che abbiamo trovato abbiamo un 87.5% che presentano risultati positivi e quindi la terapia funziona un 12.5% che presenta un risultato nullo e cioè che la terapia non ha effetto ovviamente questo è il bias da un punto di vista empirico cioè noi ci chiediamo rispetto ai risultati quanto siano più o meno in supporto della teoria o della terapia l'altro problema molto più serio è il conflitto di interesse il conflitto di interesse è sostanzialmente quello che vi dicevo prima cioè se io pubblico nel giornale dell'IMDR practice and therapy ovviamente io non pubblico cose che vanno contro la mia teoria perché ovviamente a me serve che la teoria vada avanti quindi gli autori hanno un conflitto di interesse nel dire sì effettivamente questa cosa funziona perché se più è positiva è meglio è sostanzialmente per l'esistenza della teoria abbiamo fatto una divisione tra articoli di quegli articoli che abbiamo trovato in con conflitti interessi e indipendenti quindi che gli autori fondamentalmente non avevano niente a che fare con la teoria e qua già si vede a occhio che su 40 30 hanno un conflitto di interesse e 10 sono indipendenti di questi 30 se guardate poi le proporzioni ovviamente in quelli con conflitto di interesse c'è una maggiore tendenza a presentare i dati positivi che in quelli indipendenti e l'altra cosa più preoccupante è che quando siamo andati a cercare se effettivamente viene dichiarato il conflitto di interesse che è qualcosa che le case editrici chiedono almeno quelle serie chiedono se effettivamente c'è un conflitto se io sono un terapeuta dico sì ok io sono un terapeuta però ho trovato di positivi va benissimo però lo dichiarano su questi 30 articoli in 4 su 30 è stato dichiarato quindi 26 articoli fondamentalmente avevano un conflitto di interesse occulto cioè che loro lo erano ma non lo dichiaravano abbiamo dovuto fare veramente investigazioni molto dettagliate per andare a cercarli su LinkedIn chi sono dove sono cosa fanno e quant'altro proprio da investigatore privato ora qual è il problema noi potremmo dire beh alla fine che male c'è è una terapia quindi una terapia è meglio di una non terapia e su questo anch'io sono d'accordo il problema è l'evidence based è il fatto che se viene riconosciuta da istituzioni viene poi foraggiata e viene quindi finanziata e quindi il finanziamento poi inizia a far a far deviare anche inizia a creare anche questa deviazione nella ricerca dell'essere un terapeuta di MDR quindi anche la stessa gente viene portata a dire ok ma se allora questa è accreditata allora anche io devo esserlo quindi se anche io devo esserlo anche io devo fare i corsi e quant'altro e siccome è dichiarata come società scientifica iscritta e riconosciuta dal ministero della salute e questa cosa non è soltanto italiana ovviamente è una cosa diffusa tra diverse organizzazioni profit o non profit governative non governative e si crea questo effetto di cui vi sto dicendo che è anche lo psicoterapeuta che dice vabbè ma io con la CBT vado bene perché comunque funziona dice vabbè ma ora devo mettere nella mia sigla che io faccio CMDR e quindi ci sono diversi corsi uno che è proprio oggi se volete andare dopo il CICAP domani ancora continua in cui certificano l'IMDR come evidence based theory vorrei ripetere questa cosa cioè non è il problema della terapia è l'evidence based che è il problema della terapia al punto che come sono stati introdotto si sta iniziando ormai a usare l'IMDR per qualunque cosa quindi sia sui disturbi sessuali sui problemi di qualunque tipo e ovviamente questa cosa ha anche un costo e ha un costo e quindi genera un guadagno e non è un guadagno banale perché ovviamente se pensiamo a quanti psicologi clinici fanno la loro pratica di CBT e magari hanno bisogno del certificato per poter poi dire ai propri pazienti che sono qualificati per fare una pratica che non è evidence based capite che si crea un moltiplicatore di guadagno ora io vorrei chiudere con questa frase il discorso non è che va bene il trattamento soltanto che non c'è evidenza veramente solida sul trattamento allora se non ha fondamenti solidi empirici solidi non si può parlare di una cosa concreta è un'illusione non è una soluzione quindi è un po' la teoria del cappello viola e con questo vi ringrazio grazie